La deadline di oggi ha finalmente tratteggiato l'ultimo e decisivo quadro della prossima Serie D. Sono state infatti ufficializzate le griglie di ripescaggio che hanno premiato i Toscani dello Zenit Prato, i Friulani del Charlins Musane e le due Lombarde, Cilberghe e Crema. Queste le quattro squadre ripescate con il Giulianova che dovrà accontentarsi di una nuova stagione in eccellenza. Se le speranze dei giallorossi si infrangono definitivamente, da Roma arrivano notizie liete per altre due abruzzesi. Si tratta di Chieti e Avezzano che nonostante disguidi vari e pendenze saldate last minute potranno disputare ancora la massima serie di rettantistica. Rimane ancora calda la situazione nero-verde che deve affrontare l'ennesimo ribaltone societario con l'imprenditore campano Daniele Ferro che dovrebbe rilevare il 70% delle quote e diventare il nuovo presidente dei teatini al posto di Nicola Di Matteo. In società farà il suo ingresso anche l'ex DS del pomigliano Enzo Vito, molto probabilmente al posto del DG Berardo. In panchina appare scontato anche l'addio di mister Ignoffo di ritorno in Sicilia con Walter Piccioni in pol per sostituirlo. Un rebus anche il futuro del presidente dell'Avezzano Andrea Pecorelli che per ora resterà gli arresti domiciliari con l'accusa di truffa e autoriciclaggio in attesa di nuovi sviluppi giudiziari. Dopo la definizione delle 168 società che comporranno il prossimo campionato, la LND procederà con la formazione e la pubblicazione dei gironi e dei calendari. Un ultimo step che molto probabilmente sarà effettuato prima di ferragosto. I tifosi intanto aspettano.